Bella ragazzi, siamo i PIRLAAAASV Quest'oggi faremo un video incredibile Forse non esiste su Youtube Italia Siamo noi i primi, quindi copiateci Ma i primi siamo stati noi Abbiamo Oss, abbiamo con noi Tiger E c'è Michael che si nasconde Ma chiamiamo prima la protagonista d'eccezione in questo video Mia madre, anzi nostra madre Perché noi due siamo fratelli, per chi non lo sapesse Lei ragazzi è nostra madre Guardate la somiglianza Dovrai reagire a un po' di cose che ti faremo vedere Ok, spezzetto di nostri video Michael, vieni qua, perché Michael Qua ne ha detto tantissimo Io meno? Mena Meno eh? Ah, benissimo, grande Michael Dai, presentati Eccolo Eccolo Michael Ho silenziato Ho molta paura Tutto quello che vedrete, ovviamente E' stato messo d'accordo prima del video, quindi non ho mai offeso nessuno E' stato un po' di vantaggio di Pierre Si, 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 si Molto bene ragazzi Tu non hai paura Tu non hai paura Io sono l'unico che sono tranquillo Io non sono, non ho mai offeso nessuna mamma Vedremo adesso, vedremo Iscrivetevi al canale per questo video epico Che abbiamo portato a nostra madre Se vi iscrivete magari riesce a fare anche mio babbo Nostro padre, chi lo sa Non vedo che ti sei iscritto Non vedo, non vedo Iscrivetevi al canale, altrimenti vi meno Oh, bravo, bravo Allora iniziamo subito E niente, via con la reaction Ce ne saranno delle belle, godetevi la visione Partiamo allora con questo clip tranquillo Non c'è nessuno di voi qui Qui interpelliamo tigre Siamo nell'intervista qui in tubo Allo speciale 600.000 iscritti E sentiamo un po' qui Poi tu ci dici cosa ne pensi, ok? Io? Sì Qual è il tuo sogno nel cassetto? Diventare qualcuno sui social Sfondare con la musica Ma tu sfondi il letto, altro che Con tua madre Tigre, chi è? Vieni qua! Per questa fortuna non c'è quei tigre Tigre! Ma sei un vero che io? Ma non si fa mica queste cose ragazzino Perché io queste cose qua Io e l'aria E non le accettiamo, ok? La prima volta che vedo tigre Gli do una mattata sulla testa Disgraziato tigre Disgraziato Allora adesso Se me lo permettono Prenderei già in causa una persona che è qui Una persona che si trova qui Un freestyle Settentrionali contro meridionali, ok? Settentrionale ero io Il meridionale era Maicon Hai sbagliato Qua tu c'è Pistolino Per questo ti chiamano Pierlino Rimorchio tante ragazze Sì E fra quelle c'è tua mamma Una di quelle ragazze pazze Rimorchio veramente la Rimorchiata La rimorchiata Pierino mi ha detto Fai questa battuta Io l'ho fatta perché l'ha detto Pierlino Pierlino te l'ha detto Sì sì, eri contro di me Te l'ho detto io Beh questa non è male Mi ha dato della ragazza Questa gliela faccio passare Questa gliela facciamo passare Va bene Prossima Qua allora c'è Bubu Che Bubu è la persona Più scurrile nei nostri video Si parlava di Lazio Inter Un gran botta risposta Ma sapete che voi non alzate un trofeo dal 2011? Sfigato Quando è l'ultimo trofeo che avete alzato? Voi non alzate trofei Tua madre mi ha zaccato però Questa è pesante eh Per sua fortuna non c'è Bubu Molto pesante Dov'è Bubu? L'ho spiesto in due Bubu ragazzi non lo vedrete più nei video perché rip Bubu Ma adesso passiamo a un altro nero Però non è lui È un altro nero Ragazzi ragazzi Pissing freestyle neri contro bianchi Ti prendo qualcosa Ti prendo No no Tiger non scappare perché qui ti voglio Ok ecco ci siamo Parla ti aspetto Abbigliamento Io mi vesto a caso non mento C'è chi si veste male Dai con tua madre lo faccio anale Ohhhh Vieni Questa veramente non me l'aspettavo Da Tiger non me l'aspettavo Come sei Tiger Ma vieni qua amico C'è il coraggio sei le palle Vieni qua che te le taglio Ohhhh Bisogna guardare in faccia Bisogna che la guardi in faccia No allora Io stavo guardando il numero che c'era dietro Siii Vieni pure qui Tiger Se ti sento ancora dire una cosa di questo genere Guarda Mai nel video è stato un errore di audio Mamma youtuber c'è Il video più epico del mondo Questo è il più bello su Pirlos Vuuu Ci rischio le batte epico Si Epico Pirlos Si da notare la faccia di Samuel in questo momento bellissimo davvero Ma andiamo avanti perché qui si tutti se la prendono con me Questo è il karma questa è la mia vendetta Andiamo con qualcuno che è qui o con qualcuno che non è qui 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 Andiamo con qualcuno che non è qui Questo è Tigre Sempre Tigre che non è qui Nella giungla nello scorso video ti ha baciato un uomo questa la dice lunga Oh my god Ehi guarda frate si mi chiamo Tigre torno nella giungla Guarda frate tua mamma mi ha fatto un non si dice però alla lingua lunga Oh Guarda la sua faccia guarda cosa pensi di questo individuo Guarda la faccia Fiero 3 2 1 Meme su questa faccia No mi dispiace perché non avrà più quella faccia dopo che mi hai incontrato Oh Male male Tigre Michael non sai parlare quindi smamma Meglio che non ti dica cosa ho fatto ieri con tua mamma Quindi anch'io non sono bravissimo Però sono più fine Molto più fine Oh Ok 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 Però va bene io Dissavo la mamma di Michael Ti ho fatto vedere ma perché mi vendicavo Perché lui in precedenza nello stesso video l'ha fatto più e più volte Andiamo a vedere due volte nello stesso video Allora adesso puoi le spieghi Puoi le spieghi Pronto Parliamo dell'aspetto fisico si Io sono bello si Infatti a tua mamma quando mi vede dice tu mi piaci così E questo è leggero E questo è leggero Potrebbe anche piacermi effettivamente Oh No Cosa Ok Ok Andiamo avanti Cinese mangio riso cantonese Aha Preferisco la mozzarella napoletana Si te lo dico la mangio insieme a tua mamma Mentre lecca la mia banana Eeeh Questa è pesante No 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 Questa è la banana Questa è molto pesante Questa è molto pesante Intendeva questa 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 Lei intendeva questa qua Perché praticamente noi mangiamo la frutta La banana E' tua Insieme alla mozzarella E' mia perché l'ho comprata io Piero Piero Così eh Nooo No 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 Selvazio Sì Sì Disgraffiato Disgraffiato Buonissima La buccia di banana è stro salutare Andate a cercare su google Ma io te saluto io dopo questa Comunque Però da notare Che sempre nella stessa clip Ancora Il signorino Ma è Samuel 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 Io Samuel Questo qui E mi che fa Ooooo Guarda guarda Era contento Sì sì era contento Perché Samuel era d'accordo Io non ero d'accordo Io giuro Giuro Si però Guarda vediamo a raralenti Io vedo Oh 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 Un Samuel felice Un Samuel felice No no quello è un aia Perché senti una presenza da dietro E quello è un aaaaa Eri quasi simpatico adesso Assolutamente RIP Samuel Ah giusto Ragazzi Degiamo un numero di like Prima Mamma mia No giuro faccio una storia Dove faccio la bama anche io Bene lo fai eh È quasi finita La sofferenza sta per finire No basta eh Che qui Altrimenti vi preparo io un dissing No Michael Michael Ancora Michael di questo video ti è scatenato Ok C'hai vent'anni avuto Solo una ragazza Quindi adesso stai zitto Perché rimorchio tua mamma Come ha letto una pazza C'è ma La cosa la cosa Non rimorcheresti a Michael Casbarby No ma neanche Gli do solo Delle gran botte in testa questa ragazza Vedete se cambia il cervello Oh Ti ha letto com'è una pazza Nina nana nina Questo bambino a chi lo dò Ragazzi questo video è bellissimo Purtroppo deve finire qui Perché ringraziamo che doveva fare altre cose Purtroppo se vuoi ne trovo Cerco altri dissing su Ty Vai 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 Non ti scomodare ma stai scherzando Comunque siete tutti un branco di disgraziati Io pensavo di avere solo un figlio Due disgraziato Tutti disgraziati qui Molto importante ragazzi Il messaggio è Non insultatevi le mamme Perché la mamma È la cosa più preziosa che ci sia La mamma è sempre la mamma E quindi dovete tenerla da conto Tutti Tutti quanti Viva le mamme Il più prezioso è che abbiamo Perché siamo nati da loro Cioè io ero qui dentro una volta Ero dentro la pancia Ero dentro la sua pancia una volta Questi anni mi hanno mentito i miei genitori Io pensavo che fosse quell'uccello grande Che mi portasse No, non è la cicogna Facciamo adesso una foto con lei su Instagram Vedete anche il suo tag Con tutti i tag delle persone qui Seguiteci su Instagram E seguite anche lei Ragazzi che voglio fare l'influencer L'influencer Lasciate un botto di like Iscrivetevi perché Se vi diamo tanti like iscritti Magari viene anche mio padre E' quello di Gnabri Perché ricorda vieni Gnabri E non è solo mia madre Neanche la madre di Gnabri E' il mio bimbo Noi vi salutiamo Bella ragazzi Mi pilla svu B-I-R-L-A-S-V B-I-R-L-A-S-V Sempre su YouTube 500k Non ci fermiamo Intendersi uno dopo l'altro Lo facciamo